Ciao ragazzi sono Spiegaramutato e benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale Come vedete anche oggi siamo su GiveUp Me l'avete chiesto voi quindi continuerò la serie Allora Nella scorsa puntata che si sarebbe random play numero... non ricordo Comunque l'ultimo random play Siamo arrivati al quarto o quinto livello Adesso mi date due secondi, li rifaccio perchè non credo si possa salvare Ci vediamo a frappè Eccomi qua se non sbaglio eravamo arrivati a questo livello in cui praticamente appena spawnavo ecco ero già praticamente morto Oh mio dio Allora come vi ricordo in questo gioco non bisogna fare altro che andare avanti camminare E ce la fa No forse eravamo in questo perchè è troppo semplice che ce l'abbia già fatta Allora vi ricordo che dopo stasera ci sarà un altro video perchè come vi ho promesso visto che ieri non sono usciti i video Oggi ne usciranno due Quello di dopo se ce la faccio sarà una cosa abbastanza interessante Sarà uno spiegamento tototec Visto che da molto che non ne facciamo e visto che porca puttegna Visto che non è la possibilità Sarà una cosa abbastanza interessante L'oggetto che andremo a recensire e a unboxare sarà un oggetto che utilizzerò molto nei prossimi video Forse avrete già capito di cosa si tratta visto che me ne ho parlato in un video da poco Non mi ricordo esattamente quale ma credo un Techcraft E mi è arrivato proprio stamattina Va bene per adesso non dico altro perchè tanto non c'è da dire Porca puttana c'ero quasi C'ero quasi Ce lo devo fare Allora Questo gioco Mi è stato detto che l'hanno fatto molti youtuber Beh non mi interessa più di tanto Cioè nel senso Che ci posso fare io Non è che mi interessi molto Cioè a me lo faccio perchè mi piace Perchè mi è piaciuta l'idea me l'avete consigliato Porca puttana Non è possibile sono uno sfigato Non è possibile Ero ero praticamente Ce l'avevo praticamente finito il livello Vinto Oh my god E ce la fa Oh mio dio diventa sempre più veloce Più più Oddio sto per impazzire Sì vabbè pure i blocchi che cadono adesso Oltre a questa merda che mi sparano No Oddio pensavo di stare per Cioè Pensavo che Che ormai avevo Perso Non riesco a parlare Ok Ok Sì vabbè Buonanotte Oh my god Oh my god Mi fa venire l'ansia sto gioco Ve lo giuro Posso ancora No Non ce la posso fare Non ce la posso fare Ok ce l'ho fatta sino adesso Non vedo perchè non ce la dovrei fare Dai Dai su con la vita Porca paletta A proposito iniziare una nuova serie Ne sono contento La serie di cui vi ho parlato ieri Non mi ricordo se vi ho detto il gioco Quindi non ve lo dico perchè Altrimenti rovinerei la sorpresa Sinceramente proprio non mi ricordo se vi ho già detto il gioco Eh Però Vi dico santo che sarei multiplayer Eh Forse inizierà domani stesso Se tutto va bene inizierà domani stesso Eh Perchè registrò proprio stasera In realtà sarebbe iniziata stasera Se non Cioè sarebbe iniziata proprio stasera Se non fosse che Per un errore tecnico Per deficienza umana Eh Sto parlando di me stesso Sì Ehm Che una volta scaricato un gioco di steam Che pesa 7 Fottutissimi gigabyte Per sbaglio lo cancella dall'hard disk Mentre fa pulizia Cioè proprio Stava Ha scaricato il gioco L'ha installato Tutto a posto Poi cosa succede Mi viene in mente di pulire l'hard disk Di proprio di No Di togliere le cagate che ci sono E ho l'abitudine di cliccare Shift più cance subito E poi c'è Shift cance invio In una maniera C'è una velocità esorbitante Proprio Talmente sono abituato a farlo Ehm E che è successo Ho cancellato il gioco E mentre lo stavo facendo Capivo che stavo facendo una cazzata Ma non mi son fermato Perchè Non ce l'ho No No C'ero quasi Mentre lo cancellavo E mi sono accorto che stavo facendo una cagata Ma ormai avevo già cliccato invio Quindi Non potevo fare niente Una volta Fatto Mi sono sentito Uno scemo Proprio un deficiente Anzi Cioè Se vedesse Il post it Che mi sono Che ho attaccato al monitor Per ricordarmi di Rimetterlo a scaricare Stamattina Recitava Esatte parole Riscaricare Il gioco Il nome del gioco Che non vi dico adesso Da steam E poi Come sottotito C'era la parola Che Praticamente Riassume Tutto quello Che sono Un coglione Si C'era scritto proprio Coglione C'è un coglione Una cosa del genere Vi giuro che Non mi sono mai Incazzato così tanto Per un gioco Non è giusto Cioè Non è giusto Che esista La deficienza così Potente Ma porca puttana Troia Ci sono un giorno Intero Non riesco ad andare avanti In questo livello Di merda Prima c'è stato Molto vicino No Ok Allora Calmi Salto qui E vaffanculo Porca puttana Basta Calmi No Non ce la faccio Non ce la posso fare Non ce la posso far Chiù Ok Facciamo una cosa Stoppo il video E vado Oh mio dio L'ultimo tentativo con voi Anzi Faccio gli ultimi due tentativi Con voi Poi Stoppo il video E vado avanti E andiamo direttamente al prossimo livello Non spararmi Grazie Allora Uno Ok Fermo C'è ancora una possibilità No L'ultimo tentativo con voi E poi Stoppo il video Mi sta venendo un Oh santo dio A frapp... Ok eccomi qua Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta finalmente Oh my god Non avevo visto le spinele Eh Porca merda No Ma mettetene qualcun altro No Certo Se no non ho abbastanza ansia No Oddio Muoio di ansia Che cazzo è impossibile Oddio Non riesco neanche a parlare Talmente sono Allora Vi annuncio che Ho dei piccoli problemi con l'ansia Cioè Se io ho fretta Non riesco a fare niente Neanche a parlare Cioè Tant'è che Certe volte Balbetto E non me ne accorgo neanche Cioè si me ne accorgo E mi da fastidio Però dico Non mi accorgo Non so il perché Ecco Cioè si Perché Oddio so tutto Vedete vedete Non riesco a parlare Allora Calmi Respiro profondo Ok Andiamo avanti Porca puttana Ah saltiamo Non mi dà neanche il tempo di spawnare Porca puttana Allora No ma L'avete visto Ok Ok Andiamo avanti Saltiamo qua Saltiamo qua E ce la fa No Ma porca puttana Ma porca puttana Era avantissimo Oh mio dio Oh my god Oh my godness Oh my godness Ok Allora Allora Con calma Si risolve tutto Il problema Di questo gioco È che A un certo punto Diventa impossibile Ecco Questo è proprio Uno di quei momenti Oh my god Scusate Ok Ho bisogno di sfogarmi Intanto lo sapete Allora Salta qui Scendi giù Bravo Salta su Andiamo avanti Ma porca di quella Bastarda puttana Impestata Non vi dico di chi sto parlando A proposito Se ve lo state chiedendo Ah scusate La voce bassa Ma è un orario Un pochino Un pochino Impossibile Per Cioè In questo In questo orario Non posso Urlare Se potessi urlare Lo farei Molto Molto Con molto piacere Ok Calmi 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 Ho 20 secondi In questi 20 secondi Devo riuscirci Devo Ma porca paletta Oh mio dio Mi sta venendo Il nervoso Ok Facciamo così Fermi tutti Ultimo Tentativo Anzi Due tentativi Poi fermo il video Che tanto il tempo È finito Primo tentativo Ok Ok Primo tentativo Fallito Secondo tentativo Fallito Va bene Io sono Spieganotato Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su twitter Google plus O su mio sito Spieganotato.ml O su facebook Digitando facebook.com Spieganotato official Io sono Spieganotato Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo video Qui sul mio canale Ricordatevi che stasera C'è un secondo video Credo alle 7 Sì alle 7 Io sono Spieganotato Ciao a tutti Ciao Ciao